Allora, io mi scusi in anticipo perché sarà una relazione forse troppo ricca per il tempo che abbiamo a disposizione, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile per permettere un momento di scambio e di discussione insieme. Però le questioni che devo affrontare per anzitutto chiarire che cos'è l'antispecismo e capire se c'è e in che termini c'è un ponte con le questioni ecosocialiste sono un po' tantine e questa è soltanto una breve sintesi delle cose che dovrei dire questa sera. Cioè, affrontare un po' di storia per capire che cos'è l'antispecismo collocandolo nel contesto dell'animalismo e di altri movimenti analoghi. Affrontare questioni economiche che riguardano la proprietà e il rapporto tra la società e la natura e ci sarà una parte, un momento di filosofia in cui parleremo di soggettività, parleremo di rapporto tra umano e non umano e poi cercherò di chiudere con una questione sociologica su come si potrebbe configurare, almeno in termini teorici, una società che si è lasciata alle spalle lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e vedremo in che termini lo sfruttamento della natura e quindi anche dell'animale. Quindi, vi chiedo scusi in anticipo, sarà tutto molto molto troppo sintetico, però in qualche modo bisogna aggredire da più punti di vista la questione per averne una visione d'insieme sistematica. Allora, partiamo, ovviamente vi devo una definizione di antispecismo, che è un termine abbastanza recente che si sovrappone in parte a un termine che ha un significato molto più vago, che è animalismo termine che si usa moltissimo in Italia e dà molta meno diffusione all'estero proprio perché è un termine molto vago, che non con natura granché se non appunto un impegno per ridurre la sofferenza degli animali. Facciamo un po' una storia di questo termine antispecismo, come nasce, come si diffonde. Allora, noi dall'antichità abbiamo due grandi filoni che legano l'uomo a una preoccupazione per la sofferenza degli animali. Uno è la zoofilia, che non è ovviamente fare sesso con gli animali, ma significa più genericamente un sentimento di affetto nei confronti degli animali, quindi tutte quelle persone che nella storia hanno sentito in qualche modo il bisogno di testimoniare la propria vicinanza rispetto alla sofferenza degli animali, da Pitagora a Leonardo da Vinci, a Bernard Shaw, sono, le possiamo definire zoofile, che mostrano una certa empatia nei confronti degli altri animali. A fianco a questo, spesso coincidente, ma non sempre, c'è invece il vegetarismo, cioè l'idea che l'uomo possa privarsi del piacere della carne per non perpetrare questa violenza nei confronti degli animali. Ora, per la stragrande maggioranza della storia occidentale, almeno, e non solo, credo, però, zoofilia e vegetarismo sono stati due atteggiamenti fondamentali che gli esseri umani hanno mostrato nei confronti degli animali, il tipo di solidarietà che hanno mostrato nei confronti degli animali. Qualcosa cambia nella società moderna, man mano che ci avviciniamo all'Ottocento, quindi con lo sviluppo del capitalismo, vengono istituite, soprattutto nelle società occidentali più sviluppate, delle società per la protezione degli animali e il movimento antidivisezionista, che è appunto proprio perché la scienza moderna, come paradigma, quello della sperimentazione sull'animale, come elemento fondamentale ineludibile per la cura medica dell'essere umano, vedevano questa forma di grudeltà come una forma di grudeltà particolarmente insopportabile e il protezionismo e l'antivisezionismo si sviluppano soprattutto nell'Ottocento, ce li troviamo anche nel manifesto del Partito Comunista, ce li troviamo citati da Marx e Engels più volte, in maniera spesso ironica perché queste associazioni, talvolta frequentate da sensibili signori e signori della ricca borghesia, evidentemente, come dice Paul Lafarge, potevano soffrire nel veder maltrattato un cane o un cavallo, ma ovviamente non ne fregava niente se poi gli operai invece soffrivano e morivano come cani. Quindi c'è questo grosso problema che fa sì che proprio nel manifesto, se non mi ricordo male, Marx e Engels mettono la società per protezione degli animali nel socialismo borghese, in tutti quei movimenti che cercano di migliorare la violenza della società borghese senza modificarne la struttura economica di fondo. Nel Novecento si sviluppano altri filoni, il welfareismo è una derivazione del protezionismo, viene da welfare, vuol dire benessere, significa migliorare la condizione degli animali, soprattutto per quanto riguarda l'industria alimentare, cosa di cui avete parlato voi l'altra volta. La questione della condizione degli animali nell'industria alimentare viene trattata dai welfareisti con un atteggiamento di questo tipo, cioè cerchiamo di ridurre il più possibile la sofferenza, quindi senza di nuovo mettere in discussione l'impianto di base dello sfruttamento della natura, tantomeno lo sfruttamento dell'uomo, e accontentandosi di ottenere progressivamente dei miglioramenti delle condizioni degli animali. Le grandi associazioni cosiddette animaliste in Italia e all'estero hanno cominciato con una posizione di questo tipo, anche se poi spesso si sono anche radicalizzate, e hanno invece sposato una visione non così moderata nei confronti dell'establishment, e soprattutto l'establishment da cui si ricercano leggi, ovviamente per poter migliorare la condizione degli animali, che vanno inevitabilmente a confliggere con gli interessi dei privati, perché migliorare la condizione dell'animale significa aumentare le spese dell'industria, cosa che poi come sappiamo possono essere in qualche modo recuperate in altro modo. Il liberazionismo invece, di forme di liberazionismo si comincia a parlare già nell'Ottocento, è invece una tattica di liberazione dell'animale che interviene proprio sulle strutture di contenzione, le strutture di imprigionamento degli animali, quindi interviene proprio direttamente a liberare gli animali che sono prigionieri delle... qui non si vede ma c'era un attivista dell'Alf, eccolo, così lo vedete. Vabbè non voglio... spostiamo la cassa, ecco. Ah no c'è la cassa, che bell'idea però! Ah perché c'è il filo, ok perfetto, benissimo, eccolo. Questo che cos'è? Quello fa parte del... Perché non è bello questo ornamento che ho fatto, ma non l'ho fatto io, va bene, ok. Infine, l'abolizionismo è la posizione più radicale che all'interno delle società animaliste, cioè dei gruppi organizzati animalisti, propugna appunto l'abolizione della schiavitù degli animali in maniera analoga a quello che può essere stato l'abolizionismo umano, quindi l'abolizione della schiavitù umana. Anche qui però tendenzialmente si tratta di società che procedono attraverso un percorso di tipo legale e giuridico, quindi chiedendo attraverso delle petizioni, attraverso delle manifestazioni, delle modificazioni legislative che permettano prima o poi, non si sa bene quando, di realizzare la liberazione degli animali. Ora, dove viene? Questo è il quadro che voi trovate, grosso modo, fino agli anni 70, in cui il termine antispecismo non esiste ancora. Non esiste ancora. Quando è che nasce questo termine? Nasce un po' per caso, c'è questo Richard Rider che è uno psicologo, che conia il termine specismo nel 1970, coniandolo facendo un'analogia con il sessismo e il razzismo, cioè quindi sostenendo che come esiste un pregiudizio nei confronti dell'altro sesso, delle altre etnie, che porta appunto a un atteggiamento prevarigatore e negatore dei diritti dell'altro, che si chiama sessismo e il razzismo, allo stesso modo si può pensare che esiste un pregiudizio fondato sull'appartenenza di specie, per cui io tendo a considerare gli interessi delle altre specie rispetto a la mia come gli unici degni di essere, cioè il mio rispetto a quello delle altre specie, come l'unico degno di essere difeso e rappresentato. Quindi il specismo viene introdotto così da Rider in maniera abbastanza laterale, cioè lui introduce il termine ma più di tanto non ci lavora. Quando è che il termine comincia a diventare invece catalizzatore dell'attenzione dell'opinione pubblica? Quando Peter Singer nel 1975 pubblica Animal Liberation e usa per la prima volta in maniera, in un testo molto discusso e molto diffuso, che ebbe un forte impatto, il termine appunto non specismo, ma il termine specista, come adesso dirò, perché il testo di Peter Singer è fondamentalmente una fondazione della morale da un punto di vista dell'utilitarismo, che significa, detto così in maniera molto sintetica e veloce, che la morale si fonda grazie al, come dire, calcolando quello che è l'interesse maggiormente diffuso nella società, quindi quello dovrebbe essere il criterio di orientamento della morale, in questo calcolo dell'interesse generale rientra o non rientra la sofferenza degli animali? Peter Singer, fondandosi su Bentham, quindi sull'idea che alla base dell'atteggiamento morale c'è la capacità di soffrire, dice che come gli animali soffrono, sì, certo che c'entra, dovrebbe entrarci, e perché di solito non ce lo facciamo entrare nel calcolo dell'interesse generale, la sofferenza degli animali? Beh non c'è un motivo in realtà, perché tutti i motivi che noi andiamo a trovare sono viziati da questo pregiudizio, cioè semplicemente il fatto che accettiamo che gli animali possano soffrire, mentre in analoghe situazioni, anche in condizioni così psichiche, cognitive, analoge, pensiamo appunto alle grandi scimmie antropoidi, insomma, in cui probabilmente la vicinanza cognitiva e evolutiva ci rende facile pensare che la sofferenza possa essere comparabile se non simile, lì invece non accettiamo che valga il principio della tutela morale, ok? Quindi è un testo fondamentalmente utilitarista, perché questo è diventata la Bibbia del movimento di difesa degli animali nel mondo? Perché Singer, utilizzando questi argomenti, arriva a giustificare il vegetarismo come un obbligo morale. Visto che la sofferenza degli altri animali, determinata dall'industria di sfruttamento animale, porta alla morte e questa morte non è necessaria, perché è possibile attraverso il vegetarismo sottrarsi, evitarla, allora questo diventa un obbligo morale, da un punto di vista però ovviamente della sua filosofia utilitarista. La cosa interessante è che tutti gli animalisti del mondo pensano che Peter Singer sia un grande filosofo, ma non sono minimamente utilitaristi, cioè prendono soltanto quello che gli fa comodo di questo testo, no? Ah, qui c'è la difesa morale del vegetarismo, quindi mi piace. Tant'è vero che poi dopo quando Peter Singer dice che per esempio, beh, se una famiglia non ce la fa a mantenere un bambino, forse si potrebbe ammazzarlo, il primo lo ammazzi meglio è, perché così non c'ha il legame affettivo con la madre, lì non lo seguono tanto, però in realtà è la conseguenza diretta del principio filosofico di base, quindi infatti c'è un altro, una stella nascente, ormai deglianante perché siamo a roba di più di 30 anni fa, siamo vecchi, che è Tom Reagan, che scrisse i diritti degli animali nel 1983, a prima allievo amico di Singer, poi se ne distacca e lo critica, perché invece Tom Reagan fa un discorso che agli animalisti è piaciuto un po' di più, perché sosteneva, in una sorta di cantismo allargato, così l'ho chiamato, che esistono dei diritti intrinseci agli esseri viventi, che sono come lui li chiama soggetti di una vita, cioè tutti gli esseri viventi a cui si può attribuire un interesse, in quanto soggetti di una vita significa appunto che hanno la disposizione la disposizione psicoaffettiva, quindi cognitiva, la sensibilità necessaria per pensare che abbiano un interesse inerente alla vita, quindi in questo caso invece l'obbligo di difesa dei diritti degli animali, termine che non esiste in Singer, quindi nell'utilizzo musingeriano non si parla di diritti degli animali, è una cosa che invece fu teorizzata da Tom Reagan, questa cosa qui ebbe molto successo negli anni Ottanta e fu la diria più accreditata, ora in entrambi i casi nessuno dei due parla di antispecismo, perché tutti e due parlano di argomenti specisti all'interno della filosofia morale che si tratta di combattere in quanto incongruenti da un punto di vista razionale. Com'è che si arriva a parlare di una cosa che si chiama specismo? Io l'ho definito un argomento di tipo metafisico, perché quello che fanno Singer, Reagan e altri filosofi analoghi parlano appunto dello specismo come la giustificazione razionale della violenza, perché noi giustifichiamo la violenza che esercitiamo ai confronti degli animali? Si possono dare tante motivazioni, perché non hanno la ragione, perché non hanno l'anima, perché non hanno il linguaggio, perché non hanno una vita sociale pari alla nostra, eccetera, eccetera. Tutti questi casi noi abbiamo a che fare con delle argomentazioni speciste. Ora, la giustificazione razionale della violenza, noi possiamo pensare che sia diffusa nella società, cioè che bene o male in una società in cui è normale che si sfruttino e si uccidano gli animali, si cresca con un pregiudizio. Possiamo anche ritenere che questo sia vero, ok? Qual è il problema? Il problema è che quando dalla giustificazione razionale della violenza si traduce questa giustificazione razionale nella causa della violenza, cioè che questo abitus mentale, che questa cultura antropocentrica che noi ci portiamo dietro, perché le nostre società sono fondate sullo sfruttamento degli animali, diventa la causa, cioè perché noi uccidiamo gli animali, perché li consideriamo inferiori. Ecco, io sostengo che è esattamente vero o il contrario. Cioè noi consideriamo inferiori gli animali perché li uccidiamo, perché li sfruttiamo. Ok? Cioè una spiegazione materialistica di come è organizzata la società deve in qualche modo partire da questo assunto, che alla base della violenza non c'è il pregiudizio, ma c'è la violenza stessa e quindi un interesse che c'è dietro la violenza. Dopo tornerò su questo, tenetelo un attimo presente. Allora, l'abolizionismo, che è la versione più recente della liberazione animale, delle teorie di liberazione animale, prende due strade. Una è quella legale di Gary Franchone, credo che si dica. È americano, Franchioni, io lo dico alla romana. Franchion. Ah beh, io è Franchione, io lo chiamo Franchione. Allora, Gary Franchione dice che non bisogna migliorare le condizioni degli animali, bisogna progressivamente combattere per ottenere delle modificazioni legislative che portino alla fine all'abolizione della schiavitù animale. Franchione ha un atteggiamento proprio da avvocato e quindi per lui tutto si basa da un punto di vista legale su quella che è una battaglia giuridica. Poi lui tra l'altro è un vegano di quelli che pensa che l'unica forma di lotta per il cambiamento della condizione degli animali sia battaglie giuridiche per ottenere progressivamente della riduzione progressiva della schiavitù animale nelle gabbie, quindi la chiusura delle gabbie, quando si chiude una gabbia, quando si abolisce una gabbia, abbiamo segnato un punto. Nel frattempo che si fa? Nel frattempo diventiamo tutti vegani, veganizziamo il mondo e siamo tutti più esenti da violenza. Dall'altro lato invece l'abolizionismo prende una piega più radicale, illegale, cioè in cui c'è un attacco frontale alla proprietà, cioè tutte le industrie che sfruttano gli animali lo fanno esercitando una violenza che non è giustificabile moralmente. A questa come si risponde? L'ALF, che è l'Animal Liberation Front, che è un'organizzazione rizomatica, mi viene da dire, cioè che non ha un centro e che attivamente va nei laboratori dove sono detenuti gli animali, li libera, distrugge i laboratori, distrugge la proprietà e tendenzialmente però è un movimento, no, tendenzialmente sì, in sé è un movimento non violento, quindi non attacca le persone, quindi è un movimento illegale, non violento che attacca la proprietà, a differenza di quello che fa Francione. Qual è il problema di questi due opposti movimenti? Che in un caso noi abbiamo una tutela della proprietà da un punto di vista proprio giuridico formale, cioè la proprietà non viene messa in discussione, ok? Nell'altro caso noi abbiamo una messa in discussione della proprietà, ma non della proprietà come sistema, della singola proprietà, cioè l'attacco viene sempre rivolto alle singole industrie, ok? È certo che l'idea, la base è che la proprietà che sfrutta gli animali e anche gli umani nel caso dell'ALF, perché c'è questa preoccupazione a differenza di Francione, è ingiusta, però non c'è una strategia di attacco alla proprietà in quanto tale come sistema della proprietà, ok? Come meccanismo sociale di riproduzione, c'è l'attacco, come dire, carsico, molteplice alle industrie nel loro essere particolare, ok? Noi avremo bisogno invece di un attacco alla proprietà da un punto di vista sistemico e materiale, cioè di una cosa che si avvicina a quello che diceva Marx. Perché la proprietà privata capitalistica esprime un rapporto di diseguaglianza nell'appropriazione della natura ed è però, e deve essere riconosciuta come un prodotto sociale, questo è il punto. Ora, se noi pensiamo a come le società umane si relazionano nei confronti della natura, tanto in una società così egualitaria, fondata sulla proprietà comune, tanto in una società altamente organizzata come la società capitalistica, noi abbiamo sicuramente questi due momenti, no? Un momento di appropriazione della natura che è il fondamento senza il quale la proprietà non si dà, neanche la proprietà comune, ok? La proprietà comune condivisa si fonda su un momento di appropriazione e però anche un momento di produzione e distribuzione dei beni che sono stati in questo modo realizzati. E il discrimine tra una società fondata sulla proprietà comune e una società fondata sulla proprietà privata è proprio questo momento di, come viene realizzato questo momento di produzione e distribuzione dei beni che si realizza a partire dall'appropriazione della natura. Ora, le società umane si possono distinguere per tanti, in tanti, in tante modalità diverse, sono entrato nella fase economica, non so se me ne siete accorti, del mio intervento. Per tante caratteristiche diverse, adesso io qui banalizzo, semplifico in maniera violenta, quindi perdonatemi, però è per arrivare al punto che mi interessa, le società, anche le società più egualitarie, sono comunque attraversate da delle disuguaglianze di tipo sociale, no? Che riguardano l'età, il sesso, l'etnia. Ma per quanto possa esserci una disuguaglianza di tipo sociale, noi non parliamo di un rapporto di classe, non parliamo di società di classe, finché queste disuguaglianze non sono caratterizzate da un'appropriazione ineguale della natura, mediata dal rapporto sociale. E questo rapporto sociale è strutturale, è sistemico e si autoriproduce. Quindi il rapporto di classe è quel rapporto in cui una classe si definisce tale perché l'appropriazione della natura passa attraverso la soggezione anche delle classi subalterne. E' chiaro questo punto? Questo è un punto importante. La società di classe non può esistere se non c'è una proporzione della natura, ma al tempo stesso una mediazione interna alla società tra due classi che si contrappongono, almeno due classi che si contrappongono, di cui una ovviamente beneficia del lavoro dell'altra. Questo aspetto è quello che in tutte le teorie antispeciste che avete visto fino adesso non viene mai considerato, perché in tutte queste teorie la società umana viene considerata come un blocco unico in cui c'è l'uomo che sfrutta gli animali. Ma l'uomo che sfrutta gli animali non esiste. Primo perché non esiste l'uomo. E poi perché quello sfruttamento della natura in cui è incluso l'animale, in un modo che poi vedremo, non va a vantaggio di tutti. E non è perpetrato a vantaggio di tutti. E le modalità in cui è perpetrato non vanno a vantaggio di tutti. La questione della società di classe la dobbiamo visualizzare bene. Allora se noi facciamo, c'erano due frecce, vabbè se è diventata una cosa, se noi ipotizziamo adesso uno schema appunto di una società primitiva, insomma di comunismo primitivo, come lo chiamava Engels, insomma, in cui c'è una comunità che attraverso il lavoro si appropria appunto della natura, in uno schema di questo tipo, che è uno schema che ha caratterizzato, se stiamo appunto all'antropologia, alla paleontologia, probabilmente centinaia di migliaia di anni nella storia dell'umanità, il ruolo dell'animale in quanto momento della natura è un ruolo come dire, strano, strano, ambiguo, ambiguo. Se noi andiamo a considerare le società appunto, quelle che si chiamano per esempio società di caccia e raccolta, da un punto di vista antropologico, vediamo che succedono queste cose strane, che si uccide l'animale e poi si fanno dei riti per chiedere scusa, c'è questa cosa strana, questa sensibilità particolare, per cui l'irrito più cruento viene in qualche modo usato per reintegrare l'atto che si è fatto in una circolarità, perché la natura deve essere in qualche modo rispettata. Rispetto della natura significa che tutto quello che io faccio, come io intervengo all'interno della natura, deve avere in qualche modo una sua compensazione, è il motivo per cui solitamente si crea un equilibrio tra queste comunità e l'ambiente circostante, si crea una sorta di omostasi e io non sfrutto tutte le risorse che trovo, ovviamente perché devo poi successivamente ritrovarle, quindi c'è una sorta di atteggiamento anche fondato su credenze magiche, per cui attraverso l'animale passa qualcosa di divino, di spirituale, insomma così, adesso non stiamo qui ad approfondire. Questo perché lo dico? Perché per passare da un rapporto come questo, che si trova ancora in maniera molto sporadica, ovviamente nella società contemporanea, sono, dopo lo dirò, quelle che Levi Strauss chiamava le società fredde e che sono state progressivamente spazzate via dal capitalismo e dalla globalizzazione e che non sto prendendo a modello, ve lo dico subito, mi serve solo per dirvi in che modo si modifica l'atteggiamento nei confronti dell'animale in una società invece organizzata gerarchicamente e soprattutto che attraverso il rapporto di classe sfrutta la natura. Ecco, la differenza fra questo e una società invece organizzata in maniera più complessa come può essere per esempio questa, che è un modello iper semplificato di uno degli quelli che si chiamano, sotto c'è scritto natura, sotto lavoro, però non tolgo il tavolo perché sennò creo disastri peggiori di quelli che ho creato fino adesso. Allora, una società come questa che è una tipica società di quelli che vengono chiamati gli early states, cioè gli stati primitivi, gli stati primordiali che si realizzano nella Mesopotamia, l'epoca della svolta neolitica, noi abbiamo un'elite politica, un'elite spirituale, un'elite scritta in francese possibilmente non così, che domina una società organizzata in classi, le quali attraverso il lavoro si appropriano della natura, i beni appropriati vengono incamerati solitamente nel tempio, nella zona centrale della città e poi si procede alla redistribuzione. Ok? Bene, in uno schema di questo tipo, che è uno dei tanti possibili schemi di una società di classe, voi avete una cosa interessante, avete che lo sfruttamento della natura è connesso allo sfruttamento dell'uomo, cioè in una società di questo tipo il distaccamento che si viene a realizzare tra l'uomo e la natura non è tra l'uomo e la natura, ma è tra la classe dominante e la natura e attraverso questo, essendo la classe dominante anche l'elite spirituale che elabora l'aspetto ideologico, culturale della società, questo poi permea di sé il resto della società. Lo sfruttamento della natura diventa l'elemento attraverso il quale l'essere umano si erge al di sopra della natura, ma senza lo sfruttamento dell'uomo questo non è possibile. La schiavitù dell'animale presuppone la schiavitù dell'uomo. Ora, il rapporto di classe, un rapporto appunto di dominio, come adesso vedremo, implica due soggetti che sono determinati dal rapporto reciproco, questo è Hegel, quindi siamo entrando nel momento filosofico. Hegel nella dialettica servopadronica che cos'è che dice? Che il soggetto dominante e il soggetto dominato sono tra di loro, dipendono uno dall'altro e sono determinati reciprocamente in questo rapporto, ok? Non è un rapporto che si istituisce casualmente e non è un rapporto che si tiene insieme, possiamo un bicchiere d'acqua? Grazie. Che si tiene insieme, come possiamo dire, in maniera… ho perso il filo. Allora, quando diciamo si crea una gerarchia tra un dominante e un dominato, non abbiamo due identità che si incontrano, abbiamo un'identità che si scinde, possiamo dire, perché questo rapporto determina la reciprocità dei soggetti, ok? Quindi il padrone è padrone perché ha il servo e il servo è servo perché ha il padrone e questo non è un rapporto esteriore, è anche un rapporto interno, interno ai due, ok? Il padrone si può considerare padrone perché c'è il servo e il servo si sente servo perché c'è il padrone. Detto questo in maniera così molto semplificato e banale. Ora, in un rapporto di classe come quello che abbiamo visto prima c'è un'elite politica, un'elite spirituale che fa del proprio, del possesso di quello che Bordeaux chiama il capitale simbolico, esclusivo, l'elemento di privilegio che serve a giustificare ovviamente ideologicamente la propria supremazia sul resto della società, sulle classi sfruttate, quella elite lì può considerarsi divina nella misura in cui si considera staccata dal resto della natura, comincia a elaborare una visione spiritualista, ok? Quindi la cosa che mi interessa del rapporto umano-animale, umano-non-umano, è come ha, quello che abbiamo visto fino adesso, lo sfruttamento dell'animale si lega allo sfruttamento dell'uomo, ok? Non è possibile avere una società di classe se non sfruttando la natura ottenendo in questo modo attraverso un'intensificazione del lavoro che è possibile solo in una società organizzata in senso classista, quindi lo sfruttamento della natura in questa forma, in questa modalità, quindi in maniera intensiva e totalizzante, è possibile soltanto in una società fondata sul dominio di classe. Al tempo stesso la cosa interessante è che società di questo tipo, forse casualmente, ma probabilmente no, hanno elaborato l'impalcatura ideologica spiritualistica dell'Occidente in cui l'uomo si erge sovrano al di sopra della natura, cosa che non è scontata, perché se noi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, cioè che da un punto di vista antropologico si parte generalmente da una visione magica della natura, da una visione in cui la natura è vista come compenetrata da qualcosa che attraversa anche l'uomo, in cui l'animale può essere anche sacro, in cui la contrapposizione frontale tra l'uomo come essere spirituale, la natura come materia non c'è, si deve arrivare a questo, tant'è vero che anche noi ci siamo arrivati, prima di pensare che la natura è materia che si muove, c'è voluto Cartesio, quindi siamo nel 600 inoltrato, per pensare che la natura è soltanto materia a mia disposizione che io posso manipolare come mi pare, che tra l'altro è una, la concezione meccanicistica della natura, del cosmo, è uno dei motivi per cui tra l'altro questa visione che è scorretta, anche scientificamente, produce le distorsioni di cui tu parlavi l'altra volta a proposito del fatto che se noi trattiamo la natura come la natura non è, cioè pretendiamo che sia mera materia in movimento, senza considerarne i livelli di organizzazione, i livelli di complessità e anche il nostro ruolo all'interno alla natura si creano i disastri appunto di cui ci occupiamo in quanto ecologisti. Allora dicevo, il fatto che il soggetto dominante, il soggetto dominato sia possibile in una società di classe vuol dire che c'è un aspetto materiale di questo rapporto, che è il rapporto di asservimento o di sfruttamento, ok? In una società di classe la natura viene sfruttata attraverso lo sfruttamento dell'uomo, cioè del lavoratore, di quello che lavora, che è a contatto con la natura. A questo si sovrappone un aspetto ideale, cioè che è la giustificazione razionale di questo sfruttamento, sia dell'uomo che della natura. Quindi quello che dicevamo all'inizio, cioè il fatto che si pensa che è il pregiudizio, voi sapete che negli studi liberal sui cultural studies, quando si parla di classe se ne parla in termini di pregiudizio, quindi si dice c'è il sessismo, c'è il razzismo e c'è il classismo che è un pregiudizio, cioè come se il problema fosse il pregiudizio, il problema che c'è alla base dello sfruttamento, poi certo il pregiudizio è una cosa brutta per carità, però tutto parte non perché c'è qualcuno cattivone che c'è al pregiudizio, perché l'imprenditore che te sfrutta potrebbe pure invece pensarti che sei la persona più figa del mondo, però te sfrutta uguale, quindi il problema è ok. Tuttavia l'aspetto ideale di questo rapporto di dominio, cioè il fatto che lo sfruttamento, l'asservimento dell'altro, lo sfruttamento dell'altro umano e non umano, porta con sé anche un elemento ideale, giustificazione ideologica, se non me va in qualche modo affrontato filosoficamente e quindi siamo entrati nell'aspetto filosofico della relazione. Scusate corro in maniera esasperante, però lì sotto c'è scritta una cosa che vi rivelo dopo, perché così facciamo la suspense, l'abbiamo messa apposta. Allora, nella filosofia occidentale, vi leggo un passo interessante di Adorno e Orkheimer, così dell'etica dell'illuminismo, così lo dicono loro più velocemente di me. L'idea dell'uomo nella storia europea trova espressione nella distinzione dall'animale. Con l'irragionevolezza dell'animale, con l'irrazionalità dell'animale, si dimostra la dignità dell'uomo. Questa antitesi è stata predicata con tale costanza e unanimità da tutti gli antenati del pensiero borghese, antichi ebrei, stoici e padri della chiesa e poi attraverso il medioevo e l'età moderna, che appartiene ormai, come poche altre idee, al fondo inalienabile dell'antropologia occidentale. L'occidente sarebbe impensabile senza questa distinzione tra l'umano e l'animale, che si formula in varie modalità nella storia, ma che rimane come elemento costante. La cosa interessante, dicono Adorno e Orkheimer, è che essa è ammessa ancora oggi in piena scienza moderna, in cui noi ci saremmo liberati di tutto lo spiritualismo, di tutte le concezioni arcaiche, in cui l'uomo dominava sulla natura come essere figlio di Dio, invece adesso noi siamo scienziati, siamo materialisti e questa cosa l'abbiamo superata. Manco per niente, i biavioristi, i comportamentisti, se ne sono scordati solo in apparenza, che essi applichino agli uomini le stesse formule e risultati che essi stessi, liberi da catene, ottengono nei loro orrendi laboratori fisiologici da animali indifesi, conferma la differenza in forma particolarmente malvagia. Beh questo leg è bello, non c'entra ma mi piace. La conclusione che essi traggono dai corpi mutilati degli animali non si adatta all'animale in libertà, ma all'uomo odierno, egli solo, l'uomo oggi, prova facendo violenza all'animale che egli ed egli solo in tutta la creazione funziona liberamente e di sua volontà con la stessa cieca e automatica meccanicità dei guizzi convulsi delle vittime incatenate che il tecnico utilizza ai propri scopi. Il professore alla tavola anatomica li definisce scientificamente riflessi, la ruspice all'altare li aveva stamburati come segni degli dei. Allora qui con il flash solido che usano loro, a colpo d'occhio si vede una cosa interessante, l'uomo si distingue dall'animale perché l'umano, da Platone e Aristotele in poi, maschio ovviamente, è il luogo della ragione, sovrano di se stesso, colui che si autodomina, si autocontrolla e quindi è il crocevia dello spirituale, di ciò che è elevato, di ciò che è al di sopra della natura che invece si esprime attraverso la sensibilità e quindi la necessità di essere subordinato perché è qualcosa di incontrollabile e in ultima istanza materiale. Tutte le differenze che noi possiamo trovare tra Aristotele e Cartesio che sono enormi, infinite, ok? Perché questo modello funziona in modo diverso, quello che non cambia è che c'è un elemento superiore, dominante e un elemento dominato, la differenza qual è? È semplicemente che in Cartesio abbiamo abbandonato ogni mediazione perché da un lato c'è lo spirito disincarnato e dall'altro c'è la brutta materia, ok? Mentre ancora per i tomisti secenteschi che l'animale avesse un'anima era scontato perché Aristotele dice che gli animali, in quanto sono animali, sono animati. Invece Cartesio deve giustamente dire che gli animali sono macchine perché l'anima si è volatilizzata nel pensiero astratto, ok? Quindi il rapporto tra umano e non umano da un punto di vista così filosofico nella storia dell'occidente è un rapporto che è caratterizzato da un lato da un'esigenza di dominio e di controllo. L'uomo è il centro di questo dominio in quanto è colui che si autorizza questo dominio sull'altro da sé e definisce l'altro da sé proprio nel momento con lo stesso gesto con cui definisce se stesso. L'uomo definisce se stesso nell'attimo in cui definisce l'altro da sé e crea questa apertura, questa spaccatura, ok? E ovviamente dal punto di vista dell'umano dominante l'altro è ciò che è ridotto appunto a quello che vediamo sopra, no? Ma questo movimento implica un altro che è quello di estraneazione, cioè tanto più io mi autodefinisco e mi allontano da colui che domino e ho necessità di allontanarmi da colui che domino proprio per poterlo meglio dominare, tanto più mi rendo e lo rendo all'interno di questo rapporto qualcosa di incontrollabile e quindi qualcosa che genera paura e alla fine disprezzo. Allora nella storia dell'Occidente non è un caso che vi rivelo quello che c'è scritto qua sotto, qui c'è scritto donne, schiavi, bambini, folli, animali. Perché nella storia dell'Occidente il dominato entra nel cono d'ombra del naturale? Perché evidentemente la storia dell'Occidente che è fondato appunto società di classe, gerarchiche in cui l'appropriazione della natura implica un distanziamento che rende possibile anche e che è reso possibile a sua volta dallo sfruttamento dell'umano, ecco che in questo cono d'ombra dell'irrazionale può essere proiettato tutto ciò che non rientra nella definizione di ciò che è propriamente umano. Perché le donne sono umane ma non sono propriamente umane, perché non hanno l'esercizio della ragione, dice Aristotele. E sono quindi condannate alla sensibilità, che è una facoltà umana ma non propriamente umana, è quella che ci lega alla natura ancora e sempre. E quindi è chiaro che questo umano, questa identità umana chiusa in se stessa, dominante, è il luogo della sovranità, dice Derrida. La sovranità. La sovranità che si esercita ovviamente sempre su qualcosa che invece non è in grado di controllarsi e quindi sta sotto. Galileo dice che noi possiamo avere le sensate esperienze, le necessarie dimostrazioni, le esperienze ovviamente le abbiamo con i sensi, questo sì. Però poi quando si tratta di oggettivare la natura attraverso lo sguardo quantificante della matematica, dice Galileo, noi dobbiamo rimuovere l'animale dall'uomo, cioè la sensibilità, l'aspetto sensibile, e invece controllare e dominare la natura, questo aggiungo io, attraverso l'oggettivazione matematica, che invece a Galileo arriva da Platone e da Pitagora, è l'aspetto matematizzante, l'aspetto scorporato, l'aspetto incorporeo, l'aspetto immateriale, ok? Al cuore della scienza moderna c'è questo elemento, ok? Ora perché ci interessa e che ruolo ha l'animale dentro questo schema? Beh, l'animale fa problema, l'uomo non si definisce distanziandosi dalla pianta, si definisce come anima razionale, dice il buon Aristotele, distanziandosi dall'animale. Perché ha bisogno di marcare la propria differenza dall'animale? Paradossalmente perché l'animale è ciò che gli è più vicino, perché l'animale non è semplicemente natura, è la natura come soggetto dotato di interesse, la natura che guarda l'uomo, la natura che guarda l'uomo, questo è l'animale, e quindi fa problema rispetto a una pianta o un fiume. è, l'ho definito così, il marcatore simbolico della differenza e quindi dell'instaurazione dell'umano in quanto soggetto sovrano. Io ho bisogno di questo schermo nero dell'animale come altro da me, a cui nego le caratteristiche che io ho, e nel momento in cui le nego ovviamente me le attribuisco, e questo è esattamente quel meccanismo di dominio e di estraneazione che poi porta a un inaridimento anche della concezione non solo della natura, che viene resa meccanicistica e quindi impoverita nelle sue caratteristiche essenziali, ma dell'uomo stesso. Impoverita nelle sue caratteristiche essenziali vuol dire che noi abbiamo per esempio in teologia cercato di studiare le società animali attraverso questo schema che ha funzionato benissimo in altri ambiti di ricerca scientifica, ma che nella ricerca etologica funziona manco per niente, perché abbiamo lavorato per secoli col concetto di riflesso che come sapete non vuol dire niente, di istinto scusatemi, non ho riflesso, chissà perché ho detto riflesso, cioè se sei uno psicanalista in sala cerchi di capire perché ho detto riflesso, l'istinto, l'istinto non vuol dire niente come ben sapete, è il buco di una teoria che non riesce a chiudere, ok? Allora se noi abbiamo per secoli ci siamo privati della comprensione delle società animali, no? Tanto è vero che oggi ci stupiamo perché scopriamo tante cose che prima non siamo degli animali, certo perché non le vedevamo, perché guardavamo con un occhio meccanicistico, ok? Di un materialismo volgare avrebbe detto Marx, un materialismo meccanicistico, no? Quindi gli animali hanno anche degli atteggiamenti morali, sì, capita, sono addirittura altruisti, sì, capita, fanno dei riti, oh, incredibile, sì, perché se tu pensi che so delle macchine è ovvio che poi ti stupisci di qualsiasi cosa che scopri degli animali, ok? Ma attenzione, attenzione anche per quanto riguarda noi, questo mi avvio alla conclusione, leggo sempre da Dornio Horkheimer che facciamo prima perché sono più sintetici di me, poi scrivono meglio, l'estraneazione degli uomini dagli oggetti dominati non è il solo prezzo pagato per il dominio, con la reificazione, con l'aggettivazione dello spirito sono stati stregati anche i rapporti interni fra gli uomini, anche quelli di ognuno con se stesso, il singolo si riduce a un nodo crocevia di reazioni e comportamenti convenzionali che si attengono praticamente da lui. L'esistenza naturale, animale e vegetativa era per la civiltà l'assoluto pericolo, quello che abbiamo visto prima, il ricordo vivo della preistoria, già delle fasi nomadi, tanto più delle fasi propriamente prepateracali, è stato estirpato dalla coscienza degli uomini in tutti i millenni con le pene più tremende, l'umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso perché nascesse e si consolidasse il sé, il carattere identico, pratico, virile dell'uomo e qualcosa di tutto ciò si ripete in ogni infanzia. In ogni infanzia dobbiamo dominare l'animaletto che sempre siamo, direbbe Derrida. Questa cosa non va intesa nel senso che, attenzione, non c'è una concezione russoiana, quanto è bella la natura incontaminata, manco per niente, è semplicemente capire come funziona il meccanismo di asservimento, quali sono le relazioni molteplici che sono presupposte da una società di classe complessa che si fonda inevitabilmente sullo sfruttamento della natura. Questo dominio che allontana l'altro da sé per costituirsi, questa identità che si costituisce solo negando l'altro da sé e quindi irrigidisce questo altro, lo reifica, lo oggettifica e quindi gli fa perdere la sua autonomia, non riesce più a vederne le sue caratteristiche, si ripercuote sul soggetto stesso che esercita questo dominio. L'estraneazione di sé da sé stessi significa anche che tutto ciò che, con lo schema che abbiamo visto prima, nell'essere umano va contro questa ideologia del dominio, del controllo, della pretesa di sovranità, deve essere messo in ombra, temuto, quindi l'aspetto femminile del maschio, la sensibilità che viene attribuita alle donne e che non è vero che è soltanto femminile, ma in questo meccanismo sì. E attenzione, essendo un meccanismo materiale e ideale di asservimento, la donna è resa nei secoli ciò che il maschio pensa che la donna sia. E l'animale è reso nei secoli ciò che il maschio e l'uomo dominante pensa che l'animale sia, non solo attraverso la domesticazione, non solo attraverso la domesticazione, perché ovvio che la domesticazione è un modo attraverso il cui, attraverso cui l'essere umano trasforma e modifica l'animale secondo le sue esigenze e quindi quel rapporto di asservimento dell'animale è un rapporto in cui l'animale è preso e da cui non può uscire e che definisce l'uomo e definisce l'animale in questo rapporto. Ma anche la natura cosiddetta incontaminata, perché tanto più l'essere umano domina il mondo e quindi espropria quelli che sono i cosiddetti habitat incontaminati, anche lì l'animale presunto selvaggio è un prodotto della civilizzazione. Capito in che senso? Perché nella misura in cui l'Europa, per dirne una, che nel Medioevo era coperta di boschi, viene disboscata e quindi il luogo dell'incontro con l'altro animale viene spazzato via, anche questo altro animale viene trasformato in l'animale selvaggio che non si incontra più se non per caso. Capite? Anche quello è un rapporto di trasformazione reciproca. Il lupo fa paura. Vero Marcello? Ok, quindi per riassumere, semplificare sempre in maniera violenta, io sono violentissimo in questo intervento, scusate, però se non dico tutte queste cose secondo me non ha senso parlare, poi li cigchiamo e ci scanniamo. Allora, per fare uno schema, uno dei possibili schemi che si potrebbe fare è questo, quindi. C'è una gerarchia sociale in cui una classe dominante, attraverso il controllo, lo sfruttamento del lavoro, domina una classe dominata e questa classe dominata è coinvolta attraverso questa meccanica dello spirito che si fonda sulla repressione della natura interna, la repressione della disciplina, che rende possibile la gerarchia di specie, quindi il controllo e lo sfruttamento della natura esterna. Questo potrebbe essere un possibile schema sintetico di quello che abbiamo detto fino adesso, in cui vedete che queste cose sono tutte connesse fra di loro. Senza una casualità, io non dico che c'è un momento causale iniziale, prendo la società di classe come un elemento che quando si forma, quando si costituisce, si costituisce, cioè è surdeterminato, le cause che portano a costituirsi di una società di classe, quindi dell'asservimento dell'uomo e quindi dell'asservimento della natura, sono diverse, sono molteplici, non mi interessa. La cosa che mi interessa è che nel momento in cui si istituisce la società di classe, questa gerarchia è istituita e funziona solo attraverso questa gerarchia, nelle modalità più diverse in cui si può dare storicamente, ma la cosa importante e essenziale è questo, perché non è facile realizzare un modello sociale così. Prima che si formino i cosiddetti stati primordiali, gli early states, ce ne ci sono voluti, centinaia di migliaia di anni e tentativi e fallimenti e retrocessioni, in cui stati che cominciano a organizzarsi, società che cominciano a organizzarsi in questa modalità poi non ce la fanno per motivi esogeni o endogeni e si dissolvono e ritornano alla dimensione precedente. Ma una volta che si istituisce il rapporto di classe e si istituisce secondo questa modalità, allora questo meccanismo può funzionare, questo meccanismo funziona fino al capitalismo e qui c'è l'ultima parte che volevo trattare, cioè la questione di che tipo di società di classe è il capitalismo, è la società di classe per antonomasie e è la società in cui questi rapporti diventano chiari ed è il motivo per cui ritengo che oggi noi stiamo qui a parlare di antispecismo. Trailer, vi dico perché poi spero di spiegarvelo. Perché l'essere umano non ha mai incontrato l'animale come tale, non esistono società umane che incontrano l'animale, infatti dice Derrida l'animale è un plurale mostruoso, perché dentro l'animale ci stanno tutti gli animali possibili e immaginabili. Nessuna società ha incontrato l'animale tranne il capitalismo globalizzato, che ha una dinamica interna di espansione universale, che riesce a soggiocare tutte le società precedenti e riesce a controllare… che stai a fa' Barbara? Ah, chiave, chiave della macchina giusto, c'è ragione. Dicevo, il capitalismo che è quella società globale per la quale la natura è materia a nostra disposizione, ovviamente a disposizione del capitale per la sua autovalorizzazione attraverso il sfruttamento del lavoro umano, e in cui quindi per la prima volta la società umana si trova di fronte a qualcosa come il problema dell'animale, perché prima non c'era. Ora, tutti quei discorsi che abbiamo visto all'inizio moralistici, moralistigianti sul school, la sofferenza degli animali, bla bla bla, erano tutti discorsi che non stanno in piedi nella misura in cui non includono al loro interno le cause vere dello sfruttamento animale, le cause vere dello sfruttamento animale oggi devono essere ricondotte allo sfruttamento capitalistico dell'uomo e della natura. Tuttavia, segnalano una cosa, tutti questi movimenti di difesa degli animali segnalano una cosa importante, una sensibilità diversa che noi dobbiamo cominciare a interpretare. Cioè, per quale motivo nelle società contemporanee, capitalismo avanzato, si sviluppa una sensibilità, un'empatia nei confronti della sofferenza animale che porta a una cosa scontata, una volta i macelli stavano dentro la città, adesso i macelli li spostiamo fuori. Per quale motivo facciamo questa cosa? Beh, perché spiegazione A, siamo diventati dei mollaccioni che non sopportano più la visione del sangue, perché questa società decadente ci ha fatto in qualche modo rimbecillire, spiegazione B, forse perché stiamo sviluppando una sorta di rifiuto della violenza, stiamo sviluppando una sensibilità diversa che si annuncia e a cui si tratta di dare una collocazione politica e sociale chiara, perché evidentemente il problema non è, ritorniamo alla signora col cuccioletto in braccio che se ne frega appunto della morte dell'operaio alla catena, il problema della signora è che la sua sensibilità è un pochettino ridotta, cioè è tutta rivolta nei confronti del povero cuccioletto, mentre la sensibilità dell'altro essere umano non la vede neanche, ma che sia possibile oggi in qualche modo pensare un rapporto diverso con l'altro da sé, quindi in questo caso con l'altro animale, con l'altro non umano, forse, quindi questa la lancio come una questione che dovremmo affrontare e discutere, è intrinseco proprio al modello sociale in cui stiamo vivendo che ci porta in qualche modo a porci il problema, ma come ci dobbiamo relazionare con l'altro da noi? Ora per fare, anche qui mi appoggio a qualcuno che dice le cose in maniera più sintetica di me che sono un po' chiacchierone, che è Levi Strauss, allora Levi Strauss faceva questa distinzione tra le società fredde e le società calde, le società fredde sono le società in cui regna una tendenziale eguaglianza sociale, ma anche una stasi produttiva in cui il ricambio organico con la natura non supera mai un certo livello, è quello che dicevamo all'inizio, una società di caccia e raccolta, io non vado a infiocinare tutto quello che vedo, perché in qualche modo devo fare in modo che la natura rimanga in una dimensione di equilibrio con me, quindi queste società non evolvono, dice Levi Strauss, perché esorcizzano la storia, cioè fanno in modo proprio che la storia non inizi, cioè cercano che non si istituisca quella disuguaglianza sociale tale che permetta lo sfruttamento della natura, la quale a sua volta retroagisce permettendo l'instaurazione di una classe dominante, quindi sono società che non evolvono, che rimangono stazionarie nei millenni, hanno una storia, ma questa storia le attraversa senza entrare dentro la loro dinamica interna, e lo fanno proprio coscientemente, io lo cito sempre questo perché è una cosa divertente, Levi Strauss parla del missionario che andava nella tribù africana, se non mi ricordo male, e gli insegnava il gioco del calcio, è solo che le partite duravano giorni, perché questi non ammettevano il fatto che una squadra vincesse sull'altra, quindi quando una squadra faceva più punti dovevano giocare finché quell'altra non facesse altrettanto punti e pareggiasse, questa è la mentalità di una società calda, cioè una società in cui, sai i campionati quanto duravano, una cosa fantastica, Sky proprio a go go, società in cui appunto si disinnesca la storia, si disinnesca la storia, il meccanismo della storia appunto che è fondato sullo sfruttamento della natura e lo sfruttamento dell'uomo. Le società calde invece sono le società in cui si istituisce una gerarchia che hanno interno il loro dinamismo e che appunto evolvono storicamente, ora il capitalismo è appunto una società di classe, è la società di classe universale, la società in cui la classe giunge a se stessa in forma pura, questo lo dice Marx già, lo dice diversificazioni, ma non sono, non entrano nella dinamica materiale di asservimento, ok? È la società di classe universale in cui lo sfruttamento non è di te in quanto categoria sociale identificata giuridicamente, identificata religiosamente, eccetera, è il meccanismo di profitto che si fonda appunto sul lavoro astratto, lavoro astratto significa tante cose che adesso qui sarebbe complicato andare a divanare, però sicuramente significa un lavoro che attraverso la tecnologia diventa sempre meno lavoro specifico e sempre più appunto il succhiare energia lavorativa per la produzione. È un lavoro, scusate, è una società di classe universale anche perché è appunto una società globale, una società che funziona solo globalmente, solo da un punto di vista dell'espansione illimitata, sia nel senso che questo modello socio-economico si espande nelle altre società e le colonizza dall'interno e poi le trasforma e quindi le asserve all'interno di una dinamica globale in cui le diverse società hanno anche diversi ruoli, dentro quello che però è un meccanismo di autovalorizzazione del capitale come tale, quindi il capitale è una realtà come sappiamo transnazionale e che si fonda appunto sulla rottura dei legami tradizionali, tutto svapora nell'aria, dicevano Marx e Engels nel manifesto, tutte quelle caratteristiche appunto delle società tradizionali vengono lentamente e progressivamente dissolte e questo è quello che da socialisti abbiamo sempre considerato il lato progressivo del capitale, cioè il fatto di cancellare la nebbia ideologica, cancellare le superfetazioni culturali che in qualche modo servono a mascherare i rapporti di asservimento per guardare l'asservimento in faccia. Che cos'è l'asservimento? Che cos'è lo sfruttamento? Ok? Poi possiamo discutere sul fatto se le società tradizionali offrono dei modelli alternativi, questo lo lasciamo alla discussione, io ho tanti dubbi ma insomma se ne può parlare. La questione, e qui veramente chiudo e mi scuso per la lunghezza, del socialismo sarebbe forse un modello sociale che si pone oltre questa opposizione tra il caldo e il freddo, tra le società calde e le società fredde. Da un punto di vista anzitutto del soggetto, il soggetto che c'è dietro, un soggetto ovviamente non atomizzato come nel capitalismo in cui siamo tutti ridotti a sfruttati e consumatori al tempo stesso e le nostre relazioni sociali sono a loro volta invase dalla pervasività del capitale e della forma di merce, ma sicuramente non è neanche un soggetto comunitario nel senso delle società premoderne, dove appunto la comunità viene prima dell'individuo. Sarebbe propriamente un soggetto autenticamente sociale, cioè in cui il lavoro e la coscienza di tutti e di ciascuno concorre in maniera paritaria alla ricchezza di tutti e di ciascuno. Quindi l'aspetto per cui Marx sottolinea la progressività del capitale è proprio che attraverso il mercato si realizza per la prima volta questo meccanismo di incontro di tutti, con tutti, in quanto individui. Questa cosa è ovvio che è distruttiva dei vecchi legami comunitari ed ovvio che è un meccanismo di asservimento dell'individuo nel capitalismo. La cosa che fa dire a Marx che questo è un aspetto progressivo, un aspetto di rottura, ma anche di configurazione di un nuovo modello, è che il capitalismo non riesce mai a essere sociale, non può essere sociale, non può produrre un modello autenticamente sociale, ma può funzionare solo con l'automizzazione e a limite servendosi di relitti comunitari delle vecchie società tradizionali. Ma che noi in quanto individui possiamo fare società e quindi mettere in comune le nostre individualità e quindi realizzare un comune che sia effettivamente prodotto anche degli individui e non soltanto di un'ideologia soverchiante, questa è una cosa nuova, mai realizzata, infatti non si è ancora realizzata, stiamo aspettando di realizzarla. Ovviamente non rapporto di classe e non sfruttamento, ma, ed ecco la puntata con cui chiudo e che è la cosa a cui volevo arrivare, probabilmente una società socialista deve realizzare anche un diverso rapporto tra ragione e natura e quindi anche riconfigurare il concetto stesso di ragione e il modo in cui ci relazioniamo con la natura che noi stessi siamo. Questo è il problema. Ora, ovviamente, cos'è una razionalità da un punto di vista di una società che si è lasciata dietro lo spiritualismo delle società tradizionali, ovviamente, quindi che la ragione sia una caratteristica dell'essere umano divino disincarnato dalla natura, questo è ovvio. Ma anche, non una ragione astratta, qui sta per una ragione strumentale, cioè il capitalismo è una società razionale? Certo che è una società razionale, se noi ci poniamo dal punto di vista di una razionalità mezzi fini, dove una volta che vengono posti dei fini, io cerco il mezzo per realizzarli. Quindi devo realizzare… qual è il mio scopo? Beh, il mio scopo, per esempio, è far circolare le persone, ma forse probabilmente le merci, da un punto all'altro dell'Europa. Quindi che faccio? Faccio un buco enorme dentro una montagna. È razionale? È certo che è razionale. Da un punto di vista della razionalità meramente tecnologica, meramente strumentale, il mio fine è quello, come lo realizzo? Nel modo più veloce possibile. Ora, che questa sia la razionalità, evidentemente è proprio il nostro problema. Probabilmente invece dovremmo pensare, parlare di una razionalità diversa, ovvero di una razionalità che non si fonda su quella dicotomia tra l'umano e il non umano, tra lo spirituale e il meramente corporeo materiale. Quindi una ragione che si relaziona con una natura che non è più reificata, che non è più ridotta a oggetto manipolabile, controllabile, dominabile. Cosa questo significhi? Si spalanca una questione gigantesca, enorme, mostruosa ovviamente, perché non si tratta di tornare a una concezione qualitativa della ragione e della natura. Probabilmente la risposta sta in un diverso modello di rapporto tra la società umana e le società animali, perché questo è il problema. Noi non dobbiamo ragionare in termini di uomo natura o di uomo animale, ma se il primo punto è giusto, di società umana, egolitaria, quindi non fondata sullo sfruttamento, eccetera, eccetera, e le altre società animali. Quindi che rapporto si deve instaurare tra la società umana e le altre società animali, che in qualche modo con cui condividiamo la natura e interessi che spesso confliggono. Bene, per rispondere a questo dovremmo, ed è l'ultimo punto veramente, riconsiderare il problema da cui siamo partiti, cioè di quel soggetto chiuso in se stesso, dominatore, identitario, che esclude l'altro da sé, si definisce in quanto escludente questo altro da sé e quindi si reifica nel momento in cui reifica l'altro, in cui si oggettiva lui stesso nel momento in cui oggettiva l'altro, si irrigidisce in questa identità chiusa, probabilmente la questione della soggettività animale oggi, ed è questo secondo me il contributo fondamentale dell'antispecismo a questo discorso, ci porta nel momento in cui noi smettiamo di vedere l'animale come semplicemente una cosa, ma cominciamo a restituirgli una sua soggettività che prima era impensabile perché l'avevamo preventivamente ridotta meccanicisticamente a una cosa, bene questa roba ci costringe anche a ripensare la soggettività umana, se questa opposizione rigida tra l'umano e il non umano salta, e deve saltare perché è evidentemente fondata su una dicotomia che non sta in piedi da un punto di vista né della sua concezione né degli effetti che produce, allora noi dobbiamo pensare a un'identità non chiusa, detto paranoide, cioè che ha paura dell'altro, che si intimorisce di aprirsi nei confronti dell'altro e che quindi non esprime un'esigenza di dominio, di controllo e quindi di espansione, una soggettività colonizzante l'altro. Questo ovviamente è altamente problematico e non c'è in questo che sto dicendo una risposta, c'è soltanto l'indicazione di dove guardare per vedere un modello diverso. La questione sarebbe che a un'umanità liberata probabilmente dal dominio che esercita su se stesso e sull'altro, probabilmente il bisogno di dominare e di espandersi potrebbe non risultare così necessario e così essenziale. Per chiudere volevo citare per un'ultima volta il buon adorno, il quale definisce la pace che sarebbe appunto una condizione senza dominio in cui si realizza un rapporto non di asservimento nei confronti dell'altro in questo modo. La pace è una condizione di differenziazione in cui il differenziato reciprocamente partecipa dell'altro. Questo significa che è una condizione in cui si riconosce una differenza, ma la differenza non viene tradotta in una necessità di dominio di controllo, ma anzi ci si lascia attraversare dalla differenza. Questo significa che in una ipotesi di questo tipo il soggetto umano si configurerebbe come un soggetto ovviamente caratterizzato da una socialità di un certo tipo che non si è mai realizzata. Quindi è un progetto, è una costruzione, è qualcosa da fare. E al tempo stesso penserebbe se stesso e l'altro in una modalità per cui l'altro non è occasione di esercizio di un controllo, non è occasione di esercizio di un dominio, ma è anzi riconoscimento di qualcosa che non sono io che non è mio. Ma questo non può imporsi se non si parte dal presupposto che anche io non sono mio. Cioè questo sarebbe il punto interessante, no? Perché l'idea di questo soggetto che si autodomina, che si autocontrolla e che si identifica con se stesso perché pone l'esigenza di identità e di dominio alla radice di se stesso, funziona soltanto nell'illusione paranoica dell'assoluta trasparenza di me a me stesso, cosa che non serve la psicanalisi a dirci che è illusoria. Come funziona una società in cui noi questa roba proviamo a metterla in comune addirittura a farne un elemento politico ed etico di relazione con l'altro? Questione gigantesca che ovviamente io non ho neanche impostato, ma che vi lascio per una discussione. Grazie. Applausi Grazie.